Non ci credevo e invece è capitato all'improvviso così L'occhio mio e l'occhio tu e senza manco pensare Che volete le far lavorare E tinta niente, tu mi hai cagnata niente Ma vive solo per te Tu sei tutto per me, io so tutto per te Quando amore sta a morire Sì, ma con più giù bello nel mondo E mai niente, io posso separare E com'è bella te voler Tutti i poti sempre chiù Per campare e morire in tei bracci Doi un famasso di invasione potesse far E com'è bella te pensare Sento ancora la libertà Tu sei avvenita, camarata di via Tu sei un miracolo per la vita mia Tu non mi manca più niente Io ho teso un vento E grazie a te perché mi hai regalato a te E qui hai vedere nel sud di Oggi è un miracolo per la vita mia E come è bella che vuole, tutte le volte sempre chiude, vuoi campare e morire in dei bracci e doi un farmaccio che ma se io potessi fare. E come è bella che pensare, sento ancora la libertà, tu sei la verità camarata di Dio, tu sei nominato per la vita mia, non mi manca di Dio, tu sei nominato per la vita mia, e grazie a te che mi regalata, a te indesurbi. E come è bella che pensare, sento ancora la libertà, tu sei la verità camarata di Dio, tu sei nominato per la vita mia, e non mi manca di Dio, tu sei sorprendente, e grazie a te che mi regalata, a te indesurbi. Buonasera mondo, buonasera Italia, buonasera mondo, buonasera a tutti voi che ci state ascoltando e a tutti gli amanti della mia musica, sono Franco Moreno, scusateci per ieri sera, purtroppo un giorno di riposo ci vuole, anche per motivi un po' di spesa, qualcosa che dovevamo fare. Sono Franco Moreno, mi sto raccontando, mi raccomando, condividete questa bella diretta, sono le 18.35 minuti, noi questa sera raccontiamo un attimino dal 1989 al 90, siamo a cavallo dal 90 al 91, perché poi si iniziarono a fare un disco ogni anno, ogni due anni, per cui stasera partiamo, quando ci fu un cambiamento di Franco Moreno, perché io venivo da Ritorna a Mabraccià, a tutte queste belle canzoni d'amore, e invece un giorno mi fu proposta una canzone che si chiama Chiamma Mangoppo Cellulare Versi 3, e là fu un cambiamento radicale, musicalmente parlando sempre, fu un cambiamento radicale, chiaramente di Franco Moreno. Mi hanno detto di dare due, tre minuti di tempo, quattro minuti di tempo, alle nostre emittenti americane che si collegano con noi, ieri sera, cioè domenica sera, abbiamo fatto una diretta meravigliosa, su tutte le emittente napoletane e le emittenti americane. Qualcuno ha detto, Franco, perché voi non hai fatto il nome delle nostre televisioni italiane? No, è solo perché non sapevo e in verità mi sono dimenticato, però voglio dire, noi siamo ospitali, noi italiani, abbiamo dato più importanza a quelle emittenti americane, perché ci vedono poco quando mai. ragazzi dovete condividere, siamo pochi, siamo 145, pochissimi. E allora, io voglio mandare una buonasera a tutti gli amici che stanno negli Stati Uniti d'America, a tutti gli amici che stanno in Germania, a quelli che stanno nel mondo, in Svizzera, in Argentina, in Florida, dove ci guardano. Noi trasmettiamo da Napoli, faccio musica napoletana, per chi non mi conosce, voglio salutare Ciao USA, che trasmette con l'amico Gio Barone, poi saluto a TV Italy, che trasmette tramite Gio Barone, poi saluto a TV Io Tiego, che trasmette sempre tramite Gio Barone, e sono tre emittenti americane. E tutto questo parte dall'amico Paolo D'Alterio. Ah, se no lo è Gio Barone Catterio, veramente stavolta. E poi che da Giancarlo Morgan, Giancarlo, Gianluca Morgan, e questo parte da qua, che lui è tutto il promotore. Poi ci sta la direzione artistica, il direttore artistico Alvatore Artitravo. Buonasera, direttore. Ragazzi siamo pochi, siamo 161. Allora, mi diceva la moglie di Patrizia, la moglie di Carlo Scorza, di Valermo, ma ce n'hai più cozze? No. Perché ieri tu hai pescato le cozze. Ieri abbiamo fatto le cozze, stamattina no, perché faccio un giorno sì e un giorno no, se no finiscono. Un bacio Patrizia, anche a tuo marito Carlo. Un bacio a tutta quanta la Sicilia, a Palermo innanzitutto, a Catania, all'amico Toscano Franco, con tutta la famiglia. Un bacio. Siamo pochi, 171. Cerchiamo di arrivare perlomeno a mille stasera. E ringrazio le persone che mi hanno fatto gli auguri. E' il tuo compleanno. Mi ha compito gli anni. Vincenzo, sto in diretta. Allora, Vincenzo da Lettere, frate Peppe Lettere, Vincenzo, Vincenzo sto in diretta, non mi telefonare. E allora, poi voglio salutare pure a Piero Cannata, con tutta la famiglia Cannata, la famiglia Palumbo. Un bacio a tutti. Salutiamo a tutti voi che state qua in diretta, che mi state già messaggiando. Anche un bacio a Maria Musumeci. Giovanni Francesco Triolo, Toni Gambino. Un bacio Tonino, sei un grande. Giuseppe Favara. E poi chiaramente voglio salutare pure all'amico Ignazio Caracausi, che mi ha detto franco, ma non lo tagliate, capito? E a Roma, non lo tagliate, ma non lo tagliate. Poi dobbiamo salutare un grande amico nostro, Gianni Damondello. E a tutti i ristoratori di Mondello e quelli di Palermo, dove noi andiamo a pranzo, a cena. Poco quando mai a cena, però ci andiamo. Poi voglio salutare alla famiglia Mollano, Filippo, alla famiglia Pollara. Benni, un bacio anche a sua moglie Jessica. Juventino Milande. Fatto, maestro, sei bellissimo. Grazie. Non fai il cognome Juventino, perché sei Juventino. Se fai il cognome Juventino, va bene. E anche a Rossi Leto. alla famiglia Leto. Un bacio a tutti i tifosi del Napoli, un bacio a Shoshow48, a Tony Miranda. Un bacio, grazie del video che mi hai mandato, Shoshow48. Grazie, Shoshow. Rosario Bruno, un bacio di Milano di Vito. Anche a Rosario. Grazie a Rosario Bruno. Rosario, un bacio, già me l'ha detto Barbieri. Buonasera, maestro, un grosso abbraccio affettuoso a tutti voi in famiglia. E presto, immenso, maestro. Maestro. me l'ha detto Barbieri che già l'hai telefonato tutta apposta, anzi, voglio dare questa notizia perché prima sentivo l'amico Barbieri, Maurizio Barbieri, un ragazzo che fa beneficenza, che voi non avete idea, come Rosario Bruno, è gente che va cercando dei bisognosi. E io ho sentito che lui aveva bisogno di qualche spesa da mandare a qualcuno che ne ha bisogno. subito mi sono messo in moto grazie a Rosario Bruno che è già provveduto, grazie a Vincenzo da Lettere, il fratello di un mio grande amico che già ha mandato qualcosa e per cui se qualcuno vuole donare qualcosa io vi invito, se volete chiamare, chiamate a Maurizio Barbieri 366 28 33 5 7 5 va bene? Oppure potete chiamare pure Rosario Bruno. Però, Barbieri mi ha detto che aveva bisogno di un poco di pasta, olio da friggere, tonno e poi un'altra cosa che mi ha chiesto però non mi ricordo, pelati. Se qualcuno vuole donare costa poco, roba di poco costo. Un po' di pasta, un po' di pelati, tonno, olio da friggere perché chiaramente non mi diceva beh però la questa legge costa un po'. Se volete voi telefonate a Maurizio Barbieri perché sappiate che lui è un ragazzo sincero, pulito e vero. E poi la cosa più bella è che crede in Dio, fa tanto, tanto, tanto per il popolo bisognoso come Rosario Bruno e come altri tanti amici che hanno fatto tanto per la gente bisognosa. Io con loro in prima fila. Un bacio a tutti, andiamo avanti con le canzoni, siamo a 199 ragazzi, dobbiamo crescere, dobbiamo crescere, siamo pochi, condividete, condividete. Allora, Elisabetta, Vassallo, Rosario, poi Gio Galati, Marcello, Matilde, Fiore De Luca, Raffaele Rossetti, Romeo Giuseppina, Francesco Titolo, Titolo, Maria, Maria Cristina Coccozza, Raffaele Rossetti, Franco Napoli, Patrizia del Monaco, Patrizia del Monaco, Monica Galotto, Antonio, Toni, Giuliano, Maria Grazia Lombardo, Marcella, ragazzi, dobbiamo crescere, vai, allora, partiamo con la prima canzone dal 1990-91 e stiamo con Chiamma Moncoppu, Cellulare, versi 3. Questa canzone mi fu scritta da Percopo Casaburi e voglio dire che questa canzone, voi non lo sapete, era una canzone che girava da circa un anno e nessuno dei cantanti la volle cantare, dicete, no, ma non mi piace, cosa, io senti questa canzone e posso dirvi, una persona che mi consigliò di farla è un cantante napoletano che si chiama Toni Chianciano con il mio seretario Vincenzo all'epoca, Antonio Vigna, sarebbe Coccuccio, dicete, tanto, che cagno, fallo sta canzone, vediamo che succede, Maurizio Barbieri mi sta mandando un messaggio vocale ma non lo posso leggere, Maurizio Barbieri un bacio a te e a tua moglie e grazie per tutto quello che fai per me. Sietevano di nome il numero del signor Barbieri? Allora, sì, le persone mi chiedono il numero di Maurizio Barbieri 366 283 3575 Maurizio Barbieri ha bisogno di portare ai bisognosi un poco di pasta, un poco di pelati, un poco di tonno, un poco di olio da friggere, se qualcuno ha le possibilità di regalare qualche olio, olio extravergine lo fate, altrimenti va bene pure l'olio per friggere. E allora, Maurizio Barbieri 366 283 3575 io mi metto sempre in diretta a fare queste cose per i bisognosi perché sappiate che nella vita mi hanno insegnato che la regina avete bisogno della vicina per cui la regina ebbe bisogno della vicina per cui mi auguro che nessuno mai possa avere bisogno di un altro perché la cosa più brutta è quanto hai bisogno però quando c'è la necessità per i figli e per i bambini i lupi escono dalla tana per dare da mangiare ai figli. Io per i miei figli farei di tutto per farli mangiare onestamente. Ok? Allora siamo a 229 ragazzi dobbiamo crescere condividete condividete mettete mi piace mi piace mettete mi piace mi piace mi piace se qualcuno vuole mettete pure in stolletelle perché quando più stolletelle la vim più bella parim prego chiamami un coppo cellulare Casaburi Percopo vai per i miei figli tornando in pilla già parata tutte cose servivano un'imedio perché se so spettosa sto 037 è libero per te è un numero segreto per te per te per te che hanno un coppo cellulare se te capo rimane e tornare mai c'è te un disperdato che stupere maglia in accalda una base da mangiare una tavola che hanno un coppo cellulare sei te io non resisto non mi non senza te condividete la diretta siamo pochi 350 vai cerchiamo di arrivare a mille senza te te un te li sentuti ma fai parte di mille e per restare con me di verità gioia in la famiglia quel sogno di bambina che 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info E basta su un'è questa voce, che mi fa sentire tutto, pure senza l'attività E basta su un'è questa voce, che mi fa sentire tutto E basta su un'è questa voce, che mi fa sentire tutto Ancora, Dino Attanasio, grazie, grazie Dino Dino Attanasio è un grande artista che sta a Milano Un amico cantante che fa le serate a Milano e negli intorni Modena, Bologna Grande parella che avevo con Barra, Lello Blandamura Un bacio, un bacio a Gummarello, pure se sta dormendo, bacialo nel sonno e dici che io la amo Allora, Silvana Danciò Allora, come sono lunghi però questi messaggi Mamma mia, come faccio a lei? Se no, delle donne, c'è un ristorante che lo sai Se ti ricordi, comunque, ciao, baci anche a te Vabbè, un bacio Silvana, non fate i messaggi troppo lunghi Allora Adesso stiamo preparando un'altra bella canzone che faceva sempre parte di questo mio lavoro discografico Che si chiama Chiamamon Coppo Cellulare Verset 3 E la canzone si chiama Anna, vero? Anna Re Anna Re E allora, io voglio mandare un saluto a una persona speciale Speciale nel senso che È un mio grande amico che si chiama Stefano Massimiliano Orsi Orsi Un ragazzo di Melito, del mio paese natale E compagno mio di classe alla scuola elementare Adesso, l'altro giorno, mi è arrivato un messaggio meraviglioso Che mi hai fatto piangere Stefano Perché io mi ricordavo di te, ti cercavo E dicevi, io so Orsi che sta facendo Mi ha mandato un messaggio dicendomi Ciao carissimo Franco Moreno Ho sentito la canzone Melito, paese mio Tu devi sapere che io non sto più a Melito Ma sto ad Assisi Nando Liguori Grazie per le stelle Io sto ad Assisi e sono un padre francescano Ma che piacere, guarda Stefano Massimiliano Orsi La cosa che mi gioisce è che tu stai servendo il Signore nostro Dio E mi fa un piacere enorme Non lo sapevo, ma ne sono fiero Di avere un amico francescano come te Perché sei una bella persona da quanto eravamo bambini E voglio salutare un tuo amico Che forse vi conoscete di Palermo È sempre francescano Biagio Conte Biagio Conte è un francescano Che fa tanto, tanto, tanto Per i bisognosi Ragazzi condividete Siamo pochi Siamo a 400 Come mai stasera? Che è successo? Vabbè State lavorando Stiamo lavorando Finalmente Mi auguro che un giorno posso fare una diretta A zero persone Che state tutte lavorando Tutti lavorando Che state bene tutti State a passeggio E dico ma come mai Non c'è nessuno in diretta Meno male Perché si lavora Si esce E andiamo a prendere un po' di sole Vuol dire che la vita È ritornata alla normalità Allora Poi voglio salutare Un altro mio grande amico Che mi chatta sempre Voi vedete pure voi i messaggi Ciao Gerardo Pisani L'amico Antonio Martorana Che mi messaggia E mi dice Che l'ospedale civico di Palermo Gli ammalati del Covid-19 Tutti gli ammalati per altri problemi Si vedono la mia diretta E questo mi fa onore E io mi auguro che tutti voi Uscirete da queste sale intensive E ritornate alla vita vostra Bella con i vostri parenti Famigliari Mamme Figli Papà Eccetera E che Dio sia sempre con noi Va bene? E poi voglio salutare Gerardo Pinto Un mio collega cantante Che è un cantante chitarrista Che proprio che Dio Ci mette il cuore Quanto canta lui Grazie a Tommaso Paragliola Paragliola Grazie per le stelle telle Tommaso Poi vado a salutare A mio zio Gaetano Da Novara Scusami A Tommaso del Prete Un bacio A mio zio Gaetano di Novara E il gruppo di Novara Un bacio Un bacio Un bacio a Francesco Toscano A macelleria più bella Di Catania Di Catania Dentro alla pescheria Carne di ottima qualità Anche però salutiamo Il mercato di Ballarò Sì Tutti i mercati Il mercato del Capo Scusami Lino Attanasio Altre 50 stelle telle Grazie Se no si stanno offendo Nei mercati Capito? Tutti i mercati E poi Voglio salutare pure Tutti il comitato Festa di Palermo Di Catania Anche l'ospedale Scusami Aspetta L'ospedale in Grazie di Palermo Un bacio Mettiamolo qua Lo sai dove si trova questo ospedale? Allora Si trova dove tu facevi la radio Radio Sprint Ah sì In quella via Come si chiama? Ingrassia? Ingrassia 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 Sia Sia Allora Pure l'ospedale Ingrassia di Palermo Ci sta guardando Io mando un bacio Con una pronta guarigione A tutti gli ammalati Proprio Un pulmine di pace E di salute Per tutti gli ammalati Che state bene Al più presto E poi mando un bacio A tutte le famiglie Che purtroppo I loro familiari Non ce l'hanno fatta Con questo Coronavirus Vi faccio le mie Contoglianze Mi piace il cuore Però Purtroppo la vita A volte ci conserva cose Che noi non ce le aspettiamo mai E niente Io direi di passare Con un'altra bella canzone E andare con i messaggi Oh quanta stella Mamma mia Allora Pasquale La Che c'è questo qua Lomasto Grazie per le stelle Telle Pasquale Lomasto Poi Ma ci mettono gli occhiali Poi a Giuseppe De Luca Grazie per le stelle Telle Giuseppe Se sei parente di De Luca Il nostro Eh Mi raccomando Quello che Che ci fa scappare sempre con le fumme Mi raccomando Dici Togli questa lanciafiamma A mezzo Che la vita C'è di fuoco Ragazzi Stiamo a 700 quasi Vai saliamo Saliamo Altre stelle Giovanni Di Caprio Un bacio Grazie per le stelle Maria Fabio Alfiero Grazie per le stelle Grazie 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 Ancora Oh quante stelle Mamma mia Allora Maria Fabio Alfiero Grazie per le stelle Telle Poi ancora Vediamo Giuseppe De Luca Grazie per le stelle Poi vediamo ancora Vediamo ancora Altre stelle Ho visto Oh senza L'entrimento sulle stelle Ciao Francesco Toscano Un bacio Alla famiglia Toscano Allora Mary Carmen Sasi Nardini Vabbè Nardini Lo stesso Grazie Un bacio Anche un bacio Al signor Stefano Rinaldi Allora Gerardo Pisani Franco Appena che finisce Tutto questo E tutto Merito Se puoi chiamarvi Il numero Del sempre Quello Senz'altro Gerardo Casal De Dogos 50 stelle Telle Antonio Cialò Un bacio Grazie C'è Girata La telecamere E allora Stefano Rinaldi Un bacio La vostra famiglia Un bacio Ti voglio bene Visto che tenga Stefano Rinaldi Che Stefano Rinaldi Pure ha fatto per Beneficenza Per quelli bisognosi Voglio dirvi che C'è il signor Maurizio Barbieri 366-283-3575 Che fa Beneficenza Per le persone Che ne hanno Bisogno E ci sta Rosario Bruno Sulla zona Di Merito Che fa Beneficenza Poi vi do Pure il numero Di Rosario Che hanno Bisogno Di qualcosa Pasta Pelati Olio Se possiamo Aiutare ancora Qualcuno Che sta ancora In grave Condizioni Economiche Perché voi Sapete come me Che lo Stato Sta facendo Solo i ghiacchiere E non manne solda A nessuno Per cui Ci stiamo Aiutando Tra poveri Eccetera Allora Se volete Collaborare Allora Pina Salvatore Fisicano Grazie per le stelle E poi ancora Vediamo un poco Vediamo un poco Ancora altre Stelle telle Io le stelle telle La già leggere Per forza Ecco qua Peppe Franci Inter Grazie per le stelle telle Allora Giuseppe Manna Grazie per le stelle telle Grazie 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 Fabio Messi Agnese di Porto Allora Ciao Franco Dalla comunità di Trapani Un bacio Alla comunità di Trapani E poi alla signora Agnese di Capotrisi A tutta la famiglia Un bacio Alla vostra famiglia Pasquale da Marcianese Pasquale da Cerra Il fratello Gennaro Ciao Tony Mirante Ciao Tony Un bacio a Cristiani Saluto Marco Cristiani Stiamo in diretti ragazzi Non vi possiamo rispondere Allora Cerchiamo di salire Condividete Io adesso passo Con questa canzone Anna Re E poi dopo Passiamo al disco Del 1992 Che si chiama Fai amore Cun'homme Spusate Aspettate un poco Ascoltatevi questa L'artista Grazie Grazie per essere L'artista Grazie a tutti Grazie a tutti Un bacio Un bacio a tutti Un bacio pure alla signora Lissone col marito Pino e Pina Un bacio a tutti In centro-destra Grazie a tutti Grazie a tutti. Un bacio di Carlo Anastasia, un bacio di Carlo, ti voglio bene, grazie, grazie ugualmente. Massimo Palumbo, grazie. Pietro Palazzolo, grazie per le stelle. Pietro Palazzolo, grazie a tutti. Non so più io, accio per tu da te. Ragazzi condividete la diretta, cerchiamo di salire, stiamo scendendo, che peccato, 400. Cerchiamo di arrivare perlomeno a mille, vai. Quindi condividete, adesso andiamo nel dunque. Accio per tu da suon, accio per tu da nascere. Adesso rimaste sole, che ricorda tu ieri. E allora, allora era Anna Re, io mando un bacio sempre a Paolo D'Alterio, Gianluca Morgan, al signor Joe Barone, alle emittenti americane che trasmettono con noi da New York, Los Angeles, New Jersey e California. TV Italy, TV Io Tievo e USA, ciao. Ciao USA. Ragazzi condividete la diretta perché adesso si parte dal 1993 e iniziamo con E qua c'è una svolta della carriera di Franco Moreno, che da quelle belle canzoni romantiche, Piene d'amore e tutto quanto, anche queste qua sono romantiche, però era un genere diverso, che ci vuole il coraggio di cambiare. E io siccome che sono scorpione, mi piace di affrontare le avventure, no? E io dissi, vabbè, cambiamo. E mi arriva a casa mia uno, per quanto mi riguarda, sono tutti bravi gli autori napoletani, ma uno dei più poeti di Napoli, che non per togliere merito a nessuno, ha scritto perlomeno, 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 dieci canzoni, une più belle dell'altra a Nino D'Angelo, al grande maestro Nino D'Angelo, alla quale io mando un saluto e lui deve sapere che io lo stimo e come cantante e come persona, perché lui rappresenta Napoli con una dignità unica e con una musicalità favolosa e con i testi meravigliosi. Va bene? Grazie che siamo rappresentati da te, Nino. Grazie per le stelle che ci hanno mandato. E allora, pensate che quest'autore, quando è venuto a casa mia, io lo conoscevo a lui, Casaburi, e a Percopo, li sapevo come autori di Nino D'Angelo e sapevo che erano scritte, per esempio, Giadeveca cussi viciarelle, che capelli giugnianche da neve, poi hanno scritto, però, una sera ribaltabile giù, pensate che canzone, poi non mi ricordo, altro che ne sono acquintali, sono venuti a casa mia, Percopo e Casaburi, la mattina alle 10, perché noi gli appuntamenti con Antonio Casaburi e Percopo li facciamo sempre in mattinata, mi hanno portato, Fai amore con uomini sposati, ragazza divorziata, avventurosamente, so' addivandata parte, poi è nata Maddalena, poi è nata ancora qualche altra canzone, però adesso vi faccio ascoltare questo disco che si chiama Maddalena, nel 1900, no, Fai amore con uomini sposati, il disco si chiama Maddalena, ma la canzone si chiama Fai amore con uomini sposati, gli arranciamenti sono di Enzo Rossi, mentre gli autori sono Casaburi, Percopo, e ve la canto io del 1993, e c'è inizio bello, vai! Condividete, condividete, condividete! Condividete, condividete, condividete! un bacio a Radio Prima Stella, che trasmette dalla Germania! Grazie Mariano Sumesi, grazie per le stelle! grazie a Pico Palazzone per le stelle! grazie a Pico Palazzone per le stelle! grazie a Pico Palazzone per le stelle, grazie a Pico Palazzone per le stelle! calzate Mari Innamorati del Grimbo e Re una chiamata in rumore Grazie a tutti 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 A tutti gli italiani che stanno a New York, a Los Angeles, a New Jersey, California, in tutti gli Stati Uniti d'America, a tutti gli italiani che stanno in Germania, in Francia, in Inghilterra, in Svizzera, in Argentina, in Francia, tutti gli emigrati che sono stati in Gile per il mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con tutta la famiglia e un bacio a tutti questi grandi artisti che avete fatto storia della canzone napoletana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Francesco, Francesco, grande, 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 Franco Moreno, Gennaro Reccia, mi fai ascoltare un brano l'anniversario. L'ho messo l'altro giorno, l'ho messo l'altro giorno, poi qualche altra sera facciamo un bacio a mia figlia. Aspetta, aspetta, puoi mandare un bacio a mia figlia, tua figlia è una persona per bene, ma tu sei un grande stronzo, stronzo, non ti porti più, sei più stronzo di tutti gli stronzi. vabbè lasciali perdere vai vai è il vecchio quanto Mussolini la faresti felice tu fai felice a tua figlia se ti ammazzi perché avere un padre come te è proprio capite è un bisogno non si leggono sti messaggi amore ma che scimità che si guardate che scrivo questo tozzo lurido è il vecchio più di Mussolini sta cosa scemo vai avanti tua mamma è sempre incinta perché la mamma è scima ma sti imbecilli vai avanti allora le stelline amore allora grazie 50 stelline vai mandami altre stronzate Giovanni Battista segreto un bacio un bacio a Filippa e a Rosi allora ragazzi condividete Raffaele Idalco Pipola grazie Luigi Di Salvatore grazie per le stelle Marco Romano Pecciottetto mio figliozzo mio figliozzo Casal De Tocos grazie un bacio a Casal De Tocos allora Davide Zaccarì Piero Sette Bellezze Cimitello da Palermo Lancella Ciro Giannuzza Nappa Vincenzo Carista Mimmo Torussi Giovanni Parisi Paolo Patti Ciro Puglia Poi Domenico Saccottiel Mosca Salvatore Grano Silvio Antonio Scialò Maurizio Barbieri ciao Maurizio un bacio e grazie per gli auguri visto che ti tengo in diretta visto che ti tengo in diretta mandami un bel messaggio col tuo numero di telefono perché già l'ho dato e sto dicendo a tutti che Maurizio Barbieri è una persona seria perché altrimenti la mia faccia non la mettevo mai in mezzo come Bruno Rosario io vi do i numeri di telefono perché loro hanno bisogno di mandare qualcosa ai bisognosi pasta, olio, tonno pelati roba di prima necessità per cui il numero di Maurizio Barbieri è 366 283 3575 Maurizio Barbieri Luigi Di Salvatore grazie per le stelle e poi c'è Rosario Bruno e 333 1885 81 vi dico perché Rosario Bruno e perché Barbieri perché Barbieri opera su Sant'Antimo Casantrino mentre Rosario Bruno opera su Merito e negli intorni di Merito qualcuno che ne ha bisogno vi ricordate di me maestro Giovanni Di Caprio no non mi ricordo Giovanni Mariamo Sumeci Carmela Schillaci 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 Grano Silvio Tommasina Germania Germania un bacio Caetano Albanese Maurizio Barbieri eccolo qua ve lo fermo si ferma loro se io lo fermo si no no loro lo vedono il messaggio questo qua è il numero di Maurizio Barbieri una persona seria vera pura sincera e credente in Dio vero come Rosario Bruno perché io dico aspetta le stelle stanno le stelle Giovanni Di Militello grazie per le stelle Luigi Di Salvatore grazie per le stelle allora Witton Padaccio Bassolino Franco ecco la storia della canzone grazie Francesco Toscano allora andiamo altre stelle aspetta le stelline non lo stanno Giovanni già le ho lette ah già le ho lette allora andiamo avanti se prepari un'altra bella canzone ragazza divorziata questa qui Giovanni Di Militello altre stelline ragazza ragazza divorziata è dedicata per tutti coloro che fortunatamente o sfortunatamente sono divorziate grazie Salvatore Salvatore Luigi Di Salvatore Di Salvatore grazie per le stelle vai regia vai la cassa divorziata Casaburi Percopo Arranciamenti Enzo Rossi 93 si è venuto di casa poco un coppo terza piana fresca con mio pane ti ripeto a me tu ragazza divorziata sola e senza figlia fai per mai famiglia questa libertà tutta provocante tutta provocante salia mi etza che stisca che profuma che profuma che si spagna quando passa tu ma chi si ma che vu che in tuo cuore tu mi sprocoli ma chi si ma che vu mentre spagna questa piangheria fai pensare fai viaggiare è una piccia che sta fantasì quando fai che li guardate casolì se ce capì Daniele Zaccarini mi dice ti posso fare una romanza prego siamo qua per questo ma chi si ma che vu che mia moglie amore e gelosia io lo so tu che vu tu fa amore un copponietta mia da chi sta appartamente si Giovanni mi ricordo di te al pronto soccorso in Abruzzo si quando mia figlia si fece mare al ginocchio sulla neve un bacio Giovanni ti voglio bene come stai io che caggia sempre strada faccio pintini in demà quando ti pot te pot esbuggir io so faticare metten con sang l'indepete a fare esposito in New York certamente caro abbracciate ma chi si ma che vu che in tuo corpo tu mi sprogo lì ma chi si ma che vu mentre spagna questa piangeria fai pensà fai viaggià e mi appiccio questa fantasia quando fai che lì guardate ma su io sasciò capire ma chi si ma che vu mi è toppo che lì da casa mia ma chi si ma che vu che mia moglie mori e gelosia io lo so tu che vu tuo amore dopo niente niente a chi sta appartamente ciano 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 cianocresi Anthony Merola ciao Anthony Franco non pensare a nessuno oramai i manicomi stanno ancora aperti no ma per la mia figura a me quanto me ne importa no perché scrivono qualcosa che non si dovrebbe scrivere stanno facendo un poco a tutti i cantanti questa checca eccetera io penso invece di pigliare una bella bottiglia ruoglie la vai a donare tu fai una bella figura perché se tua figlia sa che tu scrivi queste cose sui messaggi alle persone chiunque e quando si fa rosse secondo me dice non venire alla mia comunione perché non te lo meriti di essere invitato povero ragazzo mamma mia allora ecco le stelle che arriva Luigi di Salvatore grazie per le stelle Gaetano Cacace Franco Moreno sono Gaetano da da Asoria saluti a te famiglia Casoria Rosario Spò la figlia di Gennaro Obroro venivi a casa mia a cantare le canzoni Polino Capozzi un bacio allora 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 vediamo Luigi di Salvatore grazie per le stelle andiamo avanti ragazzi adesso preparatevi perché siamo sempre nel 93 e sempre da questo disco con Antonio Casaburi per Copò abbiamo tirato fuori un'altra bella canzone che si chiama So Ad Vandate Pat che va dedicata per tutti quei giovani che per la prima volta diventano papà ed è un'emozione unica e a questo caso io mando un bacio a mia figlia Maddalena a mio figlio Mimmo a mio figlio Stefano mi raccomando a tutta la zona di Giuliano su Napoli alle persone che stanno là ci stanno i miei figli che stanno i miei figli che hanno i girarrosti uno si chiama Aname Pollo 1 in via Signorelli a via San Vito l'altro invece sta via Oasi Sacro Cuore che si chiama Aname Pollo 2 per cui sul Pollo di Prima Qualità Giuliano già lo sa mi raccomando aiutiamo anche i miei figli a farli lavorare o sapete dicevo Mast Mario Merola e figli su Piezzi vai prego su ha demandato Franco Moreno grazie per la stella Roberto D'anguano grazie per la stella su attivantata vate evo gormi che è nate mi vega vire strigli e strigli e chanje valio pipera su attivantata attivate collate che montate che non innalate antiche e stesse casere mamma cantava a me appena arriva a casa metto fiocche e spannavoce quando ha telefonato mi ciò dice dagli amici non mangia scorte rose sarà una bella cosa torna con carrozzina a casa tutte e tre so attivantata vate è un cuore mia che è nate mi vega vitt strigli e strigli e chanje voglio pipera che attivantata attivantata vate con l'attra è che intate in innan antiche estes casere mamma cantava e allora ragazzi siamo sempre nel 93 con questo disco io voglio mandare un bacio all'amico mio Cioccolato da Torre del Greco e poi a tutta Torre Annunziata a tutta Castellamare di Stabbia poi mando un bacio a tutti gli operatori della SNAV le navi poi la Tirrenia un bacio a tutti gli amici operatori della Tirrenia e poi un bacio a tutti gli amici dei voli, degli aerei all'Italia quelli che ci accompagnano a noi in tutto il mondo tra Palermo, New York, Germania Francia, Argentina devi salutare anche un amico tuo Franco, come si chiama? Franco Claudiero un bacio a Rosario Esposito e poi fatemi salutare perché abbiamo preparato un altro brebrano se sta bregando la lingua allora io voglio salutare a tutti gli ammalati con una pronta guarigione a tutti i detenuti con una pronta libertà poi saluto a tutti i non vedenti a tutti i diversamente abili a tutte le persone bisognose e mi raccomando per le persone bisognose se qualcuno vuole donare o gli serve qualcosa da mangiare chiamate al 366 28 33 575 persone che ne hanno bisogno quelli che non ne avete bisogno non chiamate fate mangiare a chi c'ha fame oppure chiamate a Rosario Bruno al 333 18 80 581 il primo è Maurizio Barbieri il secondo è Rosario Bruno ragazzi che si mettono a disposizione senza nulla a pretendere e con una semplicità e signorità unica fai un saluto alla sorrisa Pasquale Lautista di Don Antonio un bacio alla sorrisa ecco un bacio pure a tutti i ristoratori alla sorrisa che è un ristorante meraviglioso di Napoli io mando un bacio a Don Antonio che sta lì alla signora di Don Antonio a tutto lo staff del ristorante La Sorrisa al direttore al genero alla figlia di Don Antonio che è un ristorante meraviglioso e poi un bacio a tutti i ristoratori ai camerieri ai musicisti Iman pure un bacio a tutti i bancarelli Rotturrona e Stigliol e Babbaluce e Babbaluce e Quattro Stagioni non lo usiamo e Mangia e Bevi quelli che fanno le feste di piazza con noi a quelli che fanno le illuminazioni per cui ragazzi ce la faremo ce la faremo e appena ce la faremo a me fa una festa di piazza bellissima certo non è adesso il momento passerà un po' di tempo ci assistiamo a me fa una festa di piazza che deve durare una settimana dal lunedì alla domenica a me canta sempre c'è anche un amico tu e Lina Ernesto Caterino ciao Ernesto Caterino grande agenzia 5 stelle io mando un bacio pure alla Borgo in musica e a tutti gli organizzatori a tutte le agenzie di Napoli con un forte bacione ragazzi teniamo dura perché è difficile però dobbiamo andare avanti va bene allora io direi e poi voglio dire un'altra cosa importante noi artisti che stiamo iscritti alla SIAE io Franco Moreno ringrazio alla SIAE che sta facendo tanto per gli autori napoletani e di tutto il mondo Italia Italia perché la SIAE è italiana grazie agli operatori della SIAE che sono sempre disponibili e grazie per quello che fanno perché anche loro stanno aiutando i bisognosi grazie e io chiunque aiuta i bisognosi sono d'accordo con loro la canzone che abbiamo preparata si chiama Maddalena e questa qui fu dedicata a mia figlia che all'epoca stava facendo quasi 18 anni adesso non è a più 18 sono passati un po' di anni però sempre 18 anni perché i figli sono sempre piccolini io la dedico a te Maddalena figlia mia e a tutte le figlie del mondo voglio leggere questo Freddi canta l'angelo e che è successo il cari aiuto non l'ho letto sono rompi i messaggi guarda qua eh sì perché stanno bloccato grazie grazie per le stelle Tony francese ciao un bacione a tutta a tutta la famiglia Capizzi Capozzi sbagliati mi sa io posto la ho si mettiamo a mettiamo a facciamo un bacio allora permettetemi pure di salutare perché è di obbligo salutare alla Polizia di Stato ai carabinieri ai pompieri ai vigili umani alle guardie penitenziarie a chi altro ancora a tutti i volontari al 118 alle croce rosse tutti 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 ritenetevi tutti salutati e grazie per quello che fate per il nostro mondo perché se non c'esse tutta questa gente chissà che succedesse e ricordatevi sempre che mo' che passa questo periodo perché sono sceso stamattina e ho visto in un bel viaretto verde dove abito io due bottiglie di plastica già buttate a terra fin quando l'umano era chiuso dentro e bottiglie di plastica non ci stivano appena si miscise già stanno due bottiglie di plastica per cui ricordiamoci che questo pianeta noi siamo ospiti non siamo patroni te l'immagine il buono per i nostri figli perché altrimenti vediamo morire i nostri figli negli ospedali e poi ci danniamo e non va bene così se noi adulti noi insegniamo ai piccolini come si fa questo mondo sarà sempre più bello sempre più verde va bene ricordatevi la canzone di Adriano Celentano Totò buongiorno Totò no Totò Borgese ah Borgese ciao Borgese saluti al maestro Franco il mio numero privato un bacio per tutti grazie Totò mandamelo su whatsapp ti voglio bene Totò Borgese un grande comico vero siciliano che quanto breve mi cantava faceva il professore la maestra grande Totò sei un grande e rimarrai sempre un grande allora Rosario Noviello Rosaria partiamo con la canzone vai perché sono troppi messaggi allora Roberto D'Aquano Francesco Pellecchia Francesco Toscano la canzone Maddalena dedicata per tutti i figli ascoltate queste parole per la notte che adesso direi papà e le mamme un saluto alla storia poi la scuola il primo giorno quanta lacrime estreme la grappasta cianca mia è un malassaggio la natale letterina è una bambola di è cresciuta poco a poco oggi è un altro compleanno tanti auguri signori di un abbraccio ma favore oramai sono quasi fin e io sono rassignato già penso proprio che un momento ma come ci basta a pecoraro Carlo mi ricordo mi ricordo tutto a San Gordo ciao tutto un bacio per la sfuga della peruta maddaloni di un abbraccio di un abbraccio non a perdere testa metto tu sarai mamma pure tu un bacio a Nicola Angela Amato grazie per vestirle e quei tacchi andiamo a mettere i scarpe un bacio a tutta Catania un bacio ciao Franco Dillo Stavolo sei un grande rimani sempre nel mio cuore grazie a Giuseppe Perri per le stelle un bacio agli amici dalla Svizzera non a perdere testa continuirete 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 vai metto tu vestiti fianco e bo sarai mamma pure tu ciao ciao tecano di mangi ti amo no no un motorino no lo sai che non voglio perché ti fai male ti fai male e basta quando fai 18 anni bevi di latte grazie ti fai male e bambini va bene ma studi la luce non fai guannire vicerini ti amo io aspetta aggiungi sull'unice in buona buona notte buona notte allora mi è arrivato un bel messaggio il signor Matteo il genero del boss delle cerimonie donna Antonio un grande uomo uomo con la u proprio maiuscola quando io mangi un giugno un bacio alla signora alla moglie io mando un bacio a tutta la sorrisa perché è un ristorante meravigliosissimo in tutto e per tutto grazie signor Matteo e grazie a tutta la sorrisa ai camerieri pure i guardamachina un bacio pure a loro mettiamo questa poi un bacio un bacio pure a tutti i ristoratori di Napoli ragazzi siamo duri perché è dura per noi proprio cantanti e ristoratori siamo proprio gli ultimi della scaletta che riprenderemo ma ce la faremo perché noi siamo forti noi siamo come la musica napoletana siamo forti nessuno ci distrugge e allora le stelle le stelle dove stanno scendi giù scendi giù dove stanno Giuseppe Perli grazie per le stelle bella Napoli bellissimo grazie caro grazie allora vediamo questa Franco mio padre quanto era piccolo metteva sempre i tuoi brani avevo sei anni ora 39 sono cresciuto con i tuoi successi sei sempre nei nostri cuori grazie allora andiamo avanti andiamo avanti dobbiamo mettere un'altra bella canzone vediamo un poco o sai non mi ricordo è una parola la cosa in diretta è bello della vita si è bello è bello allora ragazzi noi siamo fuori fuori tempo allora facciamo così a storia eri frate un frate grande io adesso mi metto questa qua un frate grande e poi dopo vi devo salutare perché io chiudo a meno 20 perché più stelle mi arrivano più tempo mi danno io penso di arrivare qualche sera a due ore va bene adesso vi passo questa canzone un frate grande con il grande maestro Mario Trevi è mio fratello io mando un bacio a tutti grazie per averci seguito e dopo vi lascio con i saluti per adesso un frate grande sei pronta? si sono pronta dai per tutti gli amanti di Mario Trevi e un bacio a tutti i camionisti un saluto a Piero Carnato e un saluto a Mimmo Taurino ciao Mimmo un bacio al libro dei quartieri spagnoli un bacio al librino Catania a Mimmo Taurino a Mimmo Taurino a Mimmo Taurino iscrivu un basso a Maurizio Barbieri, grande un basso a Maurizio Barbieri, grande un basso a Maurizio Barbieri, grande un basso a Giovanni Di Caprio, grazie Giovanni, ti voglio bene un basso a Maurizio Barbieri un basso a Maurizio Barbieri, grande 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 un basso come sta se mi ricordo bene voglio mandare ragazzi condividete stammi scendendo non scendiamo vorrei salutare la mia amica del che fa il piano bar ma ti disposito un bacio al marito pure e a marito viaggio barbato chi è angela niolo perché piangi angela non ti piangono perché non piangi perché piangi sono mio fratello che quando io cantavo cioè quanto mi canta questa canzone dice lui dice mi dispiace che sta piangendo che cosa ti ho fatto qualcosa di male fammi capire allora palermitano palermitano doc un saluto a tutta napoli grazie ciao palermo ciao a tutta la sicilia tutto il a tutte le persone che tina tina un maro viva l'amore viva lì viva la vita a basso e covide vero è vero no a basso mi scumbare e allora devo salutare all'amico mio cantante nico d'ambrosio renda un bacio da palermo dalla famiglia renda allora un mio amico nico d'ambrosio il cantante con il suo figliolo giampaolo d'ambrosio il magistrato un ragazzo che si è laureato e ringraziando il signore è diventato magistrato che bello avere un figlio magistrato io farei sette otto omicidi al giorno a questi figli mi salvassi sto scherzando io scherzo la mia città sempre numero uno stasera a montello bella sul lungo mare una sera a montello rinda sti bracci e carrette eccolo qua mi stai chiamando sto in diretta nico d'ambrosio mi stai guardando nico d'ambrosio mandami un messaggio nico d'ambrosio un bacio a tuo figlio giampaolo d'ambrosio il magistrato bello e poi non per offendere a nessuno sa cantare veramente è un lirico che fa paura poi voglio dire una cosa importante io dico sempre che maurizio barbieri se vi serve qualcosa se dovete donare qualcosa tre sei sei due otto tre tre cinque sette cinque voi sapete perché maurizio barbieri anico mio perché maurizio barbieri è uno che organizza delle serate meravigliosi meravigliose con i cantanti napoletani per cui è anche un grande organizzatore se qualcuno un domani quando passerà questa tempesta vuole fare una bella festa vi potete rivolgere a maurizio barbieri su zona sant'antimo perché lui fa tanto per il prossimo e quanto sarà non è che bisogna ricambiare perché non si ricambia mai però se avete bisogno sappiate che maurizio barbieri è una persona seria ok come tutti gli altri allora vediamo un poco perché ci abbiamo un'altra canzone un'altra canzone da foggia michele giuseppe fracasso saluti da foggia un bacio a foggia ragazzi io mi sono preparato un'altra bella canzone poi finiamo è questa e poi mettiamo la sigla con il mio disco nuovo che si chiama franco moreno 2020 se qualcuno lo vuole ascoltare siccome che ci sta un macello in giro con i magazzini chiusi voi potete andare su youtube e scrivere franco moreno 2020 e vi escono tutte le tracce del mio disco nuovo renato renato de carmine ciao denato sei un grande francesco di francesca di francia antonio cirillo un bacio a tutti ragazzi faccia tutti io adesso inserisco sognami vai vai la regia fa partire un bacio a tutte le emittenti americane a tutti gli stati uniti l'america a tutto il mondo un bacio o sto oggi tu è il lucente guarda di me sta in man una vicerella stringmi me gustavo che le vasse sazio me è posto e igniuta a te si overe me vabbè Anna, sei la donna del mio cuore, Anna, come te non c'è nessuno, credimi, tu sei unica per me. Anna, sei la donna del mio cuore, Anna, sei la donna del mio cuore, Anna, sei la donna del mio cuore, Anna, come te non c'è nessuno, credimi. T'amo, t'amo più della mia vita Anna, so sincera e tu mi devi credere, niente più è carinale te. T'amo, t'amo più della mia vita Anna, so sincera e tu mi devi credere, niente più è carinale te. T'amo, t'amo più della mia vita Anna, so sincera e tu mi devi credere, niente più è carinale te. Allora, allora ragazzi ci siamo? Stiamo scendendo perché è tempo di cena. Allora mi dicono, qualcuno mi chiede come deve fare per acquistare il CD 2020. Adesso ve lo dico subito, perché, 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 non ve lo posso dire, perché è stata l'altra pasta, ma è l'altro libero. Libero, sì. Allora, io adesso vi devo salutare e voglio dirvi chiunque vuole ascoltare il disco di Franco Moreno 2020, l'ultimo nuovo, che è uscito a gennaio-febbraio e poi purtroppo è arrivato il virus corona, ci hanno chiusi dentro e non abbiamo potuto fare pubblicità. Se voi andate, se voi andate su YouTube e scrivete Franco Moreno 2020, vi usciranno tutte le, tutte le canzoni, tutte le canzoni, tutte le canzoni di Franco Moreno 2020. Per cui potete ascoltare tutte le canzoni di Franco Moreno, tutte, 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 ok? E allora, vi volevo dare un numero, ma non lo trovo, non me lo sono preparato. Non lo trovi? E allora, no. Io vi lascio a tutti, mando un bacio a tutti voi, grazie per averci fatto compagnia e voglio dirvi che man mano, questa settimana, cerchiamo di cambiare pure l'orario. Fatemi sapere se vi fa piacere, allora, che dice questo? Maurizio Mollè, stai rispondendo a Toni Cambino, leggi il significato. Che vuol dire Maurizio Mollè? Maurizio Mollè, stai chiesto signore, quando sei mandato a mangiare il ristorante Cognazio a Borgonuovo? Quel bel ristorante vicino alla televisione? Ah, mandami il nome del ristorante Maurizio Mollè. Sì, sì, una bella persona e si mangia un massimo a questo ristorante. Qualcun suo amo a Moreno mangia sempre, non è vero, io mangio poco. Una volta al giorno. Una volta al giorno. E allora, volevo dire, che stai per i cenni? Ciro Dursi, un bacio, Ciro... Fare il numero, fare il disco. Toni Cambino, eh, lo so. Fatemi sapere l'orario che vi fa piacere che faccio il programma. Perché alle sette e mezza adesso la gente sta lavorando e chiaramente siamo di meno. Io voglio che voi ne siete in tanti, perché così vi do soddisfazione a tutti. E allora, fammi capire. Maria Rosaria Battisti, ciao, condiviso la diretta, sei spettacolare, la voce è melodica, le canzoni sono emozionante, uniche, con le canzoni mi trasmetti tantissimo... Emozioni. Emozioni, un abbraccio. Pasquale, Giacobbe, Franco, per favore, mi dedichi, noi core e core. Non ce la facciamo più con il tempo, ragazzi. Fra poco ci staccano. Da Palermo? Dove sta? Qua. Un saluto alla famiglia Batalamenti. Ciao Franco, grazie. Nunzia D'Antonio, saluti da Castellammare di Stabbia. Un bacio a tutta Castellammare. Torru Griega, Torru Annunziata, Ercolano, San Giorgio, il paese del grande Massimo Troisi. Allora, io vi devo salutare e vi dico, se volete ascoltare il discorso di Franco Moreno, andate su YouTube e scrivete Franco Moreno 2020. Se poi qualcuno vuole rivedere la diretta, andate sulla pagina ufficiale di Franco Moreno sul canale YouTube e scrivete Franco Moreno la mia storia. E vedete tutte le puntate, dalla prima a questa qua di oggi, perché ne tengo ancora tantissime da fare. Io pensavo che ce la facevo con dieci puntate. Non ce la fai. Ma qua stanno ancora un amico e rivolte le canzoni da mettere. Non ce la fai. Un saluto anche alla cattedrale di Palermo. Al Vescovo. Al Vescovo. Al sindaco di Palermo, al sindaco di Messina, che è un grande De Luca. De Luca si chiama. Grande, io sono un tuo ammiratore, perché mi piaci come tu curi il tuo popolo. E allora, ho condiviso la diretta, è spettacolare, già l'ho letta questa. Sì, sì, l'hai letta. Allora, l'unico cantante no melodico, non so di dove sei, di Napoli o siciliano. Oramai i siciliani tentano di cantare napoletane, ma non ci riescono a... Visto grande, mi soffermo... E vedo tutti qui... Vabbè, questo è un problema dei tuoi. Vabbè, non facciamo polemiche, perché io non sono per le polemiche, io sono per i fatti. Ho mio fratello disabile. Un bacio a tuo fratello disabile. Franco Salvadori. Sì, Franco Salvadori, ho mio fratello disabile che ama le tue canzoni. Lo saluti, sì, si chiama Luigi. Un bacio. Ciao Luigi. E mando un bacio a tutti i disabili, a tutti diversamente abili, a tutti non vedenti, a tutti gli ammalati con una pronta guarigione, a tutti i detenuti con una pronta libertà. E chiaramente un bacio a tutte le forze dell'ordine. E grazie a tutti i medici, infermieri per quello che avete fatto per noi. Salutiamo pure i spazzini che hanno lavorato con un virus in giro nella spazzatura. Per cui siete eroi. Grazie, 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 grazie. Noi vi dobbiamo salutare perché altrimenti ci staccano e facciamo brutta fiu. Saluti dai quartieri Zisa Palermo. Allora, lo sai dove è Zisa? Dove tu hai cantato anche? C'era quella 500. Ah, bella! Quando il Palermo andò in Serie A, mi ricordo benissimo. Zona Sisa, Roste Paci, Mucina d'Azzurra. Bella, 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 bella. Allora, Checco Mariani. Un bacio, ciao Franco. Un bacio a Checco Mariani. Allora, io vi lascio con l'ultima canzone e ci vediamo domani sera. Fatemi sapere. Un bacio a tutti. Sulla mia pagina ufficiale, quando gradite la diretta di Franco Moreno. Quando più gente siamo, più belli diventiamo. Allora, Toni Campino, stai rispondendo a Toni Campino? No, Maurizio ho sbagliato, volevo mandare un cuore. Un cuore. Ok. Fra di loro. Un bacio, grazie dalla bellissima compagnia. Grazie di Francia, Carlo Boemi. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Ci vediamo domani sera. Un bacio. E buonasera anche in Sicilia, picciotte. Un bacio. E buonasera pure a Napoli. Ciao, guagliù. Con me, picciotte, guagliù. E buonasera a tutto il mondo. A tutto il mondo comunque. E che Dio vi benedica sempre. Mi raccomando, amiamoci gli un con gli altri. Vogliamoci bene. Un bacio a Stefano Rinaldi. Un bacio camionista. Io mando un bacio a tutti i camionisti. E a tutti voi vi auguro tutto il bene di questo mondo. Io saluto a chi mi vuole bene, a chi non mi vuole bene. O mi sta dicendo qualche parolaccia. Ci mandi un bacio, amore. Ti bacio e ti dico sempre che io ti voglio sempre bene. Ok? Ciao, ciao. Ciao a tutti. 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 Grazie a tutti.